Quando perdi i supplementari è chiaro che scoccia molto, però credo che ai supplementari siamo arrivati perché loro hanno preso, nel senso che la partita è complicata, quando nel quarto tempo hanno preso otto rimbalzi in attacco. Quando fai sbagliare gli avversari deve riuscire poi a capitalizzare con i rimbalzi e in quel momento sicuramente sono stati più svegli, più lesti, ha fatto qualcosa in più di noi per prendere quelle palle che poi sono risultati decisivi. Quindi penso che alla fine dell'ultimo tempo diventa complicato, poi quando regali tanti secondi tiri in trasferti particolari poi diventa veramente complicato. L'abbiamo raddrizzata nei supplementari con carattere, però poi al supplementare effettivamente ancora qualche rimbalzo ci ha punito. Però la chiave penso sono quegli otto rimbalzi d'attacco nell'ultimo quarto, ci hanno veramente girato la partita.